La pagina di La Mezza, pagina 33 del quotidiano di oggi, venerdì 15 gennaio, primarie si vota il 7 febbraio. Il segretario cittadino del PD basta, vogliamo più partecipazione da parte della città. C'è tempo ancora fino al 20 gennaio per candidarsi, ha approvato il regolamento. Il Partito Democratico ha stabilito le primarie di coalizione per scegliere il candidato a sindaco. Giro di cronaca, morte in solitudine, due casi in poche ore. Il primo caso alle 19 di ieri sera, poi una seconda chiamata dopo circa un'ora, una seconda persona trovata morta da sola in casa per causa naturale. Due morti, un unico destino, morire da soli in casa. E infatti è accaduto ieri quando nella prima circostanza, non vedendolo più da un paio di giorni, una vicina di casa di BC, 57 anni, ha chiamato alla polizia. Giunti nel centro storico di Via Torri, gli agenti hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione dove l'uomo divorziato abitava da solo. Pochi attimi agli agenti si presentava nella stanza del letto, il corpo ormai senza vita del 50enne, 57enne, ai piedi del letto. Nessun segno di scasso o rapina in casa, così come accertato dalla scientifica. Poi il medico legale, dopo una prima ricognizione sul cadavere, stabilisce che le cause della morte sono naturali, infarto. e che il corpo senza vita da due giorni, il 57enne, era un ex bidello, dopo aver lavorato per molti anni al nord, era tornato nella sua città. Nemmeno il tempo di chiudere il caso, che è alla questura di Lamezia. Un'altra analoga segnalazione, questa volta i vigili del fuoco ad essere intervenuti per una chiamata di una donna del quartiere Capizzaglia. Il papà non lo vedeva da giorni. Giunti sul posto, i vigili del fuoco forzano una finestra, entrano in l'abitazione e trovano il corpo senza vita di api, 43 anni. Anche in questo caso il medico legale, stabilisce che le cause del decesso sono naturali, probabilmente un altro infarto. Due episodi analidi, dunque, nel giro di poche ore. Taglio basso, Italia dei valori, questione morale prioritaria. Chi ha i conti aperti con la giustizia? Deve mettersi da parte. Nella foto il ragioniere Roberto Gigliotti. Di Polito illustra i sondaggi indecisi al 22%, sindaco centrodestra al 39%, centrosinistra al 20%. Corra Lamezia, antenne, telefonia, sala d'allarme, non sarebbe stato rispettato il regolamento comunale, via pane e sante eufemia, zone critiche. Su Facebook i dati ARPACAR indicano un forte inquinamento elettromagnetico. L'antenna all'interno della stazione ferroviaria dell'ex comune di Nicastro. Preoccupa l'impianto della stazione, anche se in questo periodo stanno anche lavorando per la videosorveglianza. Ospedale, una vera e propria emergenza. Pino comodale di rifondizione comunista, solicito l'incontro con i vertici dell'ASP. Poi c'è anche un articolo di spalla sull'acqua che non va privatizzata. Ufficio invalido, la situazione è grave, disservizi e disfunzione si repercuotono sui soggetti deboli come i malati cronici e gli anziani. Interrogazione all'Oiero dal consigliere regionale Franco Amendola. Il distretto sanitario dove è ubicato l'ufficio invalido. I 9.000 utenti non ricevono assistenza. Andiamo a pagina 35 sul Lamettino. Nocella Terinese, debiti, Ferlaino si dimette, scontro sulla situazione dell'ente da saldare la molti servizi per 600.000 euro. Il PD, il sindaco, risponde alla Corte dei Conti per disastro economico.